All'uscita di Marvel's Spider-Man 2 manca poco più di un mese e sia Sonic che Insomniac hanno finalmente deciso di raccontare maggiori dettagli su questo attesissimo sequel. Se nel primo Spider-Man e nel suo spin-off abbiamo potuto vestire i panni separatamente di Peter Parker e Miles Morales, Marvel's Spider-Man 2 sembra darci l'opzione di switchare dall'uno all'altro con comodità. Attenzione però, nelle missioni storia deciderà il gioco quale dei due Spidey stiamo interpretando, nelle missioni secondarie a volte sarà una nostra decisione, a volte no, ma nell'open world potremo switchare dall'uno all'altro grazie alla velocità dell'SSD di PS5 velocissimamente. Se Marvel's Spider-Man 2 migliorerà ovviamente la fedeltà grafica e la densità di attività di Manhattan è anche importante ricordare che il gioco aggiungerà due nuovi quartieri, Brooklyn e Queens. Se molte delle missioni secondarie dei titoli precedenti vedranno un lieto ritorno in Marvel's Spider-Man 2, alcune missioni qui ci vedranno faccia a faccia con alcuni villian che almeno nei due precedenti giochi ancora non abbiamo incontrato. Marvel's Spider-Man 2 cambierà apparentemente anche il modo in cui si presentano i contenuti opzionali a chi gioca, mentre i titoli precedenti avevano un approccio piuttosto strutturato e tradizionale che si vede nella maggior parte dei titoli open world, in Marvel's Spider-Man 2 le cose saranno apparentemente molto più diegetiche, quindi il gioco attirerà la nostra attenzione sulle attività opzionali attraverso determinati spunti visivi. Questo avviene in molte forme diverse, i droni Talon che girano intorno a un edificio, il ping di uno spiderbot in lontananza, oppure anche solo un simbolo proiettato nel cielo. Particolare che farà felici molti e molti di voi è il ritorno dell'app Spider-Man Friendly Neighborhood che ora riceve diversi aggiornamenti e ci permette di accettare le richieste in arrivo dei cittadini di New York. Nel frattempo Peter e Miles sono entrambi dotati di lenti a realtà aumentata che possono essere utilizzate in qualsiasi momento per vedere una sorta di sovrapposizione delle attività secondarie al mondo stesso, invece di essere trascinati in un solito menu. Ovviamente rimanendo a parlare di distretti, in Marvel's Spider-Man 2 ci saranno anche delle modifiche al modo in cui si progredisce in ogni singolo distretto della città. Da quello che si è visto infatti sembra che i progressi saranno graduali e sbloccheranno nuove ricompense sì a intervalli regolari, mano a mano che si progredisce in un distretto. Non abbiamo maggiori dettagli o dettagli più specifici, ma quello che abbiamo capito è che lo sblocco del viaggio rapido in un distretto è strettamente legato ai progressi che abbiamo compiuto in esso. È inutile dire che entrambi i titoli di Marvel's Spider-Man hanno ereditato moltissimo dalla trilogia di Arkham. Beh, i combattimenti in Marvel's Spider-Man 2 in realtà vedranno qualche piccolo miglioramento. In particolare sembra ora che i gadget e le abilità siano mappati sui tasti R1 e L1. Tenendo premuto quindi uno di questi tasti è possibile utilizzare una delle quattro abilità o gadget equipaggiati utilizzando invece i tasti frontali. Con quattro abilità e gadget a disposizione in un momento solo, invece di dover tirare fuori la ruota radiale come nei titoli precedenti e ognuno di essi con un proprio countdown, probabilmente pugni e schivate ora come ora nel combat system di Marvel's Spider-Man 2 saranno piacevolmente intervallati da utilizzi di abilità e gadget esplosivi molto più spesso rispetto appunto ai giochi precedenti. Un'altra nuova meccanica di combattimento che Marvel's Spider-Man 2 introdurrà è il Perry. Si è sentito bene, il Perry. Sebbene ci siano alcuni attacchi che non possono essere parliati, altri devono assolutamente essere parliati. Questi sono contrassegnati da un piccolo cerchio giallo e richiedono la pressione del tasto L1 con un tempismo piuttosto preciso, non solo per bloccare l'attacco ma anche per far barcollare il nemico che ci attacca, lasciandolo temporaneamente vulnerabile ai nostri successivi attacchi. Presumibilmente questa meccanica sarà molto utilizzata con boss, mini boss e magari i nemici più grandi del gioco. Insomma, ce lo aspettiamo. Ti ho appena citato le abilità e con Peter che sfoggia la sua tuta simbiotica e Miles che probabilmente ha imparato a gestire meglio i suoi poteri bioelettrici, entrambi gli spidi hanno parecchio in grado di differenziarli l'uno dall'altro. Dal lato di Peter infatti grazie alla tuta simbiotica abbiamo attacchi che ti permettono di lanciare una massa nera di tentacoli aculei verso i nemici oppure un pugno in grado di lanciare i nemici in aria. Non dimentichiamo ovviamente la mossa speciale della tuta che ci permetterà di grabbare i nemici e schiantarli al suolo. Miles ovviamente non ha meno da offrire ma da quel che si vede dai recenti trailer sembrano tutti piacevoli e interessanti potenziamenti al moveset che già avevamo sviluppato e potenziato nel suo rispettivo gioco. Ovviamente avere un'abilità non significa nulla se non mi dai qualcosa o qualcuno sul quale sfogarla e Marvel's Spider-Man 2 sembra in realtà spingerci a ingaggiare con i nostri nemici con ogni nostra singola abilità, mossa e gadget a disposizione. Come lo fa? Con una grande varietà di nemici. Prendiamo ad esempio gli cacciatori, ovviamente seguaci di Kraven, come suggerisce il nome, che saranno in grado di lanciarci addosso mine esplosive o granate velenose. Alcuni perfino potranno fare attacchi elettrici contro di noi. Altri chiaramente ci spareranno con delle normalissime armi da fuoco o ci verranno addosso con scudi o cercheranno di attaccarci corpo a corpo con lame, coltelli, spade di qualche tipo. Ovviamente i droni Talon offriranno una sfida molto diversa con attacchi più sulla distanza o campi elettromagnetici in grado di vietarci l'utilizzo delle nostre abilità. Al di fuori dei combattimenti Marvel's Spider-Man 2, come i suoi predecessori, spezzerà la situazione con una varietà di enigmi diversi, dei quali ne vengono introdotte nuove tipologie, come prendere il controllo di uno Spider-Bot che striscia attraverso le prese d'aria e si intrufala fra i nemici per distrarli, o l'aggiustare filamenti di DNA in un nuovo tipo di minigioco. Un altro di questi minigiochi consiste nel resettare i magneti di un acceleratore di particelle, e lo faremo usando i grilletti adattivi del 2Sense. Altro elemento di miglioramento è dedicato alla progressione e ai potenziamenti della tuta, ci sono ora 3 alberi di abilità, uno per Peter, uno per Miles e uno in comune ad entrambi. Oltre a potenziare le loro abilità innate di combattimento, furtività e attraversamento, sarà possibile potenziare anche gadget e tute. Per quanto riguarda quest'ultime, i potenziamenti includono vantaggi per l'attraversamento dell'ambiente, come l'aumento della velocità di movimento delle ali di ragnatela, la quantità di danni inflitti, la quantità di salute e ovviamente tanto altro ancora. Ovviamente stiamo parlando di tute ed è impossibile non ricordare quanta varietà ci offrisse Marvel Spider-Man, ma anche Marvel Spider-Man Miles Morales, a livello proprio di tute da equipaggiare. Spider-Man 2 continua su questo trend, Insomniac ha infatti dichiarato che il gioco conterrà oltre 65 tute, molte delle quali ispirate ai fumetti e ai film di Spidey. Già di per sé è un numero impressionante, però c'è una nuova funzione, che si chiamerà in italiano qualcosa come Stili di tuta, per la quale ogni tuta avrà anche più varianti. Questo porta il vero totale di tute a disposizione a 200, e sì, è inclusa anche la tuta nera di Spider-Man 3 di Sam Raimi. Per trasparenza, 10 di queste 65 tute saranno però solo disponibili nella Digital Deluxe Edition. Chiudo con un accenno alle modalità grafiche del titolo, di cui già in parte si è parlato online, nei primi anni di PS5 Insomniac ha dimostrato di separare dei viri miracoli a livello tecnico con i suoi titoli e Marvel Spider-Man 2 sembra voler continuare anche questa tradizione. Il titolo infatti offrirà tre modalità grafiche, tutte a risoluzione dinamica o a 30, a 40 o a 60 fps, ognuna di esse però con retracing attivo. Prima di chiudere vi voglio ringraziare per aver guardato il video fino ad adesso, vi invito chiaramente a mettere mi piace, a commentare e a condividere questo video, oltre ad iscrivervi al canale, va un particolare ringraziamento a Gaming Bolt che è stata la fonte delle informazioni per questo contenuto.